Adesso è chiaro anche al sindaco di Barletta Pasquale Cascella come i fatti e i rapporti politici in questi mesi siano sensibilmente cambiati e in molti casi si siano ridimensionati passando ad esempio dal caporedattore di Raiuna a quello di Telesveva, da Alfano ad Alfarano, dal colle Quirinale vista Cupolone al colle Plebiscito vista Saraceno. Le ultime vicende politiche stanno infatti evidenziando un confronto sempre più stridente tra Cascella e le forze di maggioranza e dopo il tavolo politico dello scorso sabato dagli esiti negativi e il silenzio di protesta dei consiglieri di centrosinistra nell'ultimo Consiglio Comunale per questi ultimi non c'è più la possibilità di nascondersi, far finta di nulla, giochi chiare con dichiarazioni in politichese. Oltretutto le dimissioni dell'assessore Chieppa che si aggiungono a quelle date qualche mese fa da Ugo Villani impongono delle modifiche all'esecutivo e il conseguente confronto. Quello in atto è ormai un vero e proprio braccio di ferro tra il sindaco e i partiti di maggioranza. PD e Sinistra Unita per Barletta chiedono una presenza ingiunta adeguata alla consistenza dei propri gruppi consigliari. Scelta civica e lista del sindaco, il cambio del proprio assessore. Buona politica e centro democratico non avrebbero problemi interni, ma sono preoccupati dalla stabilità del quadro politico senza trascurare che su centro democratico si addensano le nubi sospinte da chi ritiene che con un solo consigliere non possa avere l'assessore. Da parte sua il sindaco non sarebbe insensibile a richieste che sotto il profilo numerico apparirebbero anche sensate e siamo convinti che egli stesso abbia bisogno di una verifica circa il lavoro e l'efficienza dei singoli assessori. Ciò a cui Cascella non intende cedere e che rende complicata tutta la vicenda è uno sbracamento verso la mediocrità. Il sindaco teme cioè che il tentativo dei partiti di maggioranza in caso di riequilibrio nei numeri e rimpasso degli assessori sarebbe non quello di proporre alternative comunque di eccellenza, ma espressioni anche di scarso livello purché portatrici di specifici interessi. In questa situazione di stallo si attende un primo passo e a farlo dovrebbe essere il tavolo politico e quella la sede che dovrebbe decidere in modo ufficiale se esiste la richiesta di rimpasso e la nuova griglia cioè gli assessori che dovrebbero andare a ciascun partito. Nel frattempo il sindaco dopo le dimissioni di Chieppa ha assunto ad Interi ma anche la delega al bilancio mentre quella relativa alle società partecipate sarà assegnata ad altro assessore. Grazie a tutti.